Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo che segue le avventure di un giovane ragazzo quando assiste a un incidente. Questa situazione lo porta ad affrontare una visione terrificante e ossessionante della morte ed inizia a rendersi conto delle forze del bene e del male che operano nel suo ambiente. Il lettore viene spinto a riflettere sulle complessità della vita, sulla natura delle emozioni umane e sull'importanza di affrontare le sfide con coraggio. La trama del libro La vita di un ragazzo dello scrittore Robert M. C. Camon, edito da Fanucci, è la seguente. Zephyr, in Alabama, è una città idilliaca per l'undicenne Corey Mackinson, un luogo dove i mostri nuotano nelle profondità del fiume e gli amici sono per sempre. In una fredda mattina di primavera, Corey e suo padre vedono un auto precipitare in un lago, e un disperato tentativo di salvataggio porta il padre a confrontarsi con una terribile e ossessionante visione di morte. Mentre Corey lotta per comprendere il dolore del padre, i suoi occhi si aprono lentamente alle forze del bene e del male che lo circondano. Ciò che lo attende è fonte di paura e stupore, magia e follia, fantasia e realtà. Mentre Corey si immerge nel profondo di Zephyr e di tutti i suoi misteri, scoprirà che mentre i piaceri delle cose infantili svaniscono, crescere può essere un viaggio curioso e bellissimo. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.